un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo oggi ci troviamo qui nel parlatorio del convento proprio accanto alla foresteria dove oggi fra fedele conte accoglie tanti pellegrini che giungono qui a san giovanni rotondo per leggervi uno stralcio di una lettera che padre pio scrive a padre agostino il primo settembre del 1916 e possiamo dire la penultima lettera che scrive dal convento dei frati minori cappuccini di foggia perché il 4 settembre quando lui lascerà foggia per salire qui a san giovanni rotondo per quello che doveva essere un temporaneo trasferimento poi diventerà definitivo e lui resterà per sempre qui a san giovanni rotondo primo settembre quindi lui scrive a padre agostino dopo vari giorni trascorsi in palpiti ed angosciose angustie perché privo delle vostre notizie ricevo finalmente la vostra lettera assieme ad una cartolina viva e dio che non lascia per molto tempo senza conforto chi in lui spera in questi giorni cercherò col divino aiuto di scrivere proprio a quell'anima che veniva suggerita da padre agostino vi confesso padre che sento una lotta in me nel dover far questo ma per obbedire a voi e per far contento gesù lo farò ad ogni costo piaccia dio infondere più coraggio in quest'anima e renderla più degna di altri suoi maggiori favori quell'anima mia cordialissima nemica e si riferisce a maria gargani così chiamata perché contro il desiderio che era espresso da padre pio pregava il signore perché lo conservasse a lungo in vita invece lui chiedeva alle sue figlie spirituali in particolare a maria gargani di pregare per la sua morte quindi lui la chiamava nemica perché non non faceva quello che lui chiedeva per un incidente non potete venirmi a trovare nel passare per foggia ella intanto mi scriveva dal suo paese mi diceva che la degnassi di una risposta avendone ricevuto permesso dal padre provinciale innanzi di allontanarsi da san marco a mia volta poi chiesto nel permesso allo stesso provinciale ed avendomelo accordato in tutta la sua pienezza le scrissi tutto ciò che il signore volle la poverina piena di riconoscenza mi risponde che dietro tutte le mie assicurazioni rimasta moltissimo sollevata la luce dice essersi fatta nell'anima sua un nuovo coraggio ha ricevuto la sua anima per combattere il buon combattimento viva dio che suole servirsi dei più bassi strumenti per sollevare i suoi eletti lunedì prossimo quattro corrente quindi siamo al 4 settembre del 1916 andrò a dio piacendo a san giovanni rotondo per prendere un po di aria di monti spero colare infrancarmi nelle forze poiché qui oltre ai miei malanni che dovunque e sempre mi accompagnano devo sostenere lavori a pro delle anime che non mi lasciano libero per un ritaglio di tempo a sostituirmi qui è venuto il padre isaia padre isaia da sarno il quale si è liberato proprio in questi giorni dal servizio militare quanto è buono gesù con noi voi poi tranquillo padre noi tutti che voi siamo uniti in uno stesso spirito non cessiamo di assiduamente far menzione di voi davanti a gesù noi tutti condividiamo non solo con voi le gioie che sono ben poche ma le stesse afflizioni coraggio coraggio padre che non tarderà di risplendere l'iride della pace sul suolo insanguinato dell'europa intera il signore è ancora sdegnato per l'iniquità dei figli degli uomini ma egli certamente non ci giudicherà al rigore di giustizia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti